Musica Ciao a tutti bentornati o benvenuti sul mio canale Direi di iniziare subito E questo è il bottino di stavolta Potete vedere oggi ho una borsa bellissima di NYX Che mi hanno regalato nello store E' una tote bag con la scritta NYX tutta in paillette E ha la cerniera quindi come tote bag è fatta veramente veramente bene E qui sulla parte da appoggiare sulle spalle è tipo rinforzata in fucsia Quindi siccome abbiamo iniziato da NYX direi di continuare con NYX Ho preso un'altra Lingerie XXL Perché con quella che ho preso nell'ultimo haul mi ero trovata benissimo Questa è a numero 02 quindi l'altra era un po' più marroncina Questo è un nude tranquillissimo veramente veramente bello Avevo anche sentito parlare super bene ho visto varie recensioni E comunque appunto anche vedendo il colore effettivamente sbocciato in negozio Mi è piaciuto da subito E ho voluto finalmente provare a comprare anch'io la Lift & Snatch Io l'ho presa nella colorazione Espresso Ed è quella che sto indossando in questo momento Devo dirvi come prima impressioni che sembra un eyeliner Effettivamente Che ha la puntina molto più piccola chiaramente dell'eyeliner Quello classico di NYX Quella è consigliata per fare l'effetto quello che va un sacco adesso Tipo delle ciglia per la pelo Però io mi sono trovata bene anche a fare l'effetto tattoo Cioè comunque è venuta abbastanza bene L'unica cosa bisogna stare attenti se si vuole un tratto fine A non premere troppo perché se no si fa la solita sbagliare Quindi ci devo prendere un attimo sulla mano Però devo dire che come effetto mi piace molto E anche come colorazione è perfetta Ce ne sono vari Ce ne sono più calde Più fredde Più chiare Più scure chiaramente E penso che questa per me sia perfetta Fortunatamente non ero sola a fare acquisti da NYX E appunto con 45€ di spesa Mi hanno dato questo bellissimo beauty Tutto super olografico Passiamo ora a questa acqua Profumata Non si legge assolutamente niente Ma che bello Fiji di Bath & Body Works Non avevo mai preso niente da Bath & Body Io ho voluto provare quest'acqua profumata Io faccio pena a descrivere i profumi Faccio veramente schifo ve lo dico Quindi cercherò più o meno di qualcosa di sensato Cioè magari sono buona via di dire che un profumo è fruttato quando è floreale Ok? Non prendete troppo per averci Ciò che sappia dirvi su questa profumazione Io la sento anche dolce però soltanto a vedere gli ingredienti di dolce non c'è niente Quindi insomma abbiamo capito Allora vi leggo che così questo è sicuro quello che c'è scritto qui dietro Ossia note di guava Arancia fresca E gelsomino Come l'ho detto lo sento anche dolce La profumazione che mi ricorda l'estate ma non la profumazione dei solari Quindi io vi consiglio se avete un Bath & Body Works vicino di andare a sentirla Ci sono anche un sacco di altre granze nuove dell'India tipo tropicale Erano tutte super buone Questa però era la mia preferita Passiamo ora sto guardando un attimino Direi di passare a Tiger Perché poi tutto il resto dovrebbe essere Primark se non ricordo male E dopo aver visto uno degli ultimi video di Issyma Del compleanno dove gli facevano la sorpresa Dopo aver visto questa faccetta occhi a koala Non potevo non apprenderla anch'io E ragazzi se non lo sapete il koala è uno dei miei animali preferiti in assoluto Quindi quando l'ho vista sono tipo impazzita E' super carina ma che è pucciosissima Tipo le orecchiette a pompon super morbide E poi io in realtà non le metto neanche tanto le faccette per dormire Le utilizzo proprio quando ho mal di testa Super fort Devo assolutamente addormentarmi in 0-2 Che senza appunto non riuscirei Le utilizzo in quei casi perché se no di bellezza Tipo sul comodino sono carine Per restare in tema questa è di Primark appunto E come vi sto dicendo io non le utilizzo E per non utilizzarle ne ho una collezione Che è bè veramente Questa a differenza dell'altra Che questa è mastica con elastico Tra l'altro non è un elastico troppo forte Quindi nel caso non dà fastidio Questo ha il velcro Non le avevo mai viste fatte così con il velcro Anche questa è super morbidosissima Un piccolo unicorno Perché nella mia collezione non ce n'erano già abbastanza E quindi un piccolo unicorno Che lei si chiama Lily Non so se si vede Si un po' si si vede Rigorosamente presa nel reparto Bambini Le maschere scrub al caffè Io raga le avevo provate mesi fa E poi non le avevo mai più trovate Io mi ero innamorata di queste maschere E vanno lasciate in posa 15 minuti E poi quando le andate a rimuovere Vi fanno lo scrub È una sensazione bellissima Mi ricordo che lasciavano la pelle super morbida Super pulita E quindi mi ero veramente innamorata di queste maschere Ovviamente non le avevo mai più trovate Costume animalier Fatto a body Tutto leopardato bianco e nero La parte della schiena è un po' più scoperta Ma lo starete vedendo nella clip indossato Pijamino super lungo di Minou Questa è una XS Come potete vedere è molto 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 Oversize Questo è un materiale Bello fresco per l'estate E ultimo pezzo per questo haul Una cosa non propriamente per questa stagione E sto parlando di questa felpa Della casa di carta Che dentro è tipo pelosina Non va assolutamente bene per questo periodo Ma appunto la metterò un sacco Quest'autunno e inverno Di questa felpa ho preso una doppia XS Però come potete vedere anche questa Come il pigiama di Minou Veste oversize E niente queste erano tutte le cose di questo haul Fatemi sapere con un commentino qua sotto Qual è stato il pezzo che vi è piaciuto di più Qual è quello che vi è piaciuto di meno Che sono curiosa anche di quello Fatemi sapere se avete provato I prodotti di NYX che vi ho mostrato E come vi siete trovati E mi piace un sacco vedere un po' come un prodotto Possa piacere un sacco ad alcune persone Come magari possa non piacere ad altre Quindi fatemi sapere Io come al solito vi ricordo Di dare un'occhiata giù nell'info box Perché lì vi lascio il link per seguirmi Sul mio profilo di TikTok Il link per seguirmi sul mio profilo Instagram di makeup Il link per seguirmi sul mio profilo Instagram principale Quindi andate a dare un'occhiatina Mi raccomando io vi aspetto lì E quindi nulla Io vi mando un mega bacione E noi ci vediamo settimana prossima Con un nuovissimo video Ciao Ciao